The Lord of the Rings Return to Moria è un survival che racchiude al suo interno una promessa dir poco suggestiva, proiettarci nell'esplorazione di uno dei luoghi più iconici del Signore degli Anelli, le miniere di Moria. Certo, l'opera di Free Range Games, disponibile dal 24 ottobre 2023 su PC e console di ultima generazione, ha anche un altro compito alquanto arduo, ovvero cancellare il recente disastro di The Lord of the Rings Gollum dalla memoria di tutti i fan dell'universo ideato da Tolkien. Ci sarà riuscita veramente? Beh, se volete scoprirlo dite Mellon, oppure Amici, ed entrate nella nostra videorecensione. Trattandosi di un survival cooperativo in cui il gameplay è l'indiscusso protagonista, credevamo che il titolo di Free Range non vantasse chissà quali velleità narrative. Beh, ci sbagliavamo. L'opera, infatti, non rinuncia del tutto all'ambizione di voler raccontare una storia originale, una vicenda quindi che faccia da solido preludio all'esplorazione del regno perduto di casa Doom. Ci troviamo nella Quarta Era, ovvero quella che si apre con la distruzione dell'unico anello e la conseguente sconfitta di Sauron. Un'epoca quindi di pace e di ricostruzione in cui Gimli decide di riunire dei contingenti da tutta la Terra di Mezzo con l'obiettivo di reclamare Moria per donarla al suo popolo. Così, a seguito di alcune vicissitudini, ci troveremo a vivere le aspirazioni di Gimli da assoluti protagonisti, nei panni di un nano che può essere personalizzato attraverso un editor non troppo profondo ma tutto sommato efficace. Una volta impostate le proprie preferenze non ci si ritrova però in un survival puro e semplice, bensì in un'avventura in terza persona che si sviluppa linearmente tra missioni principali e secondarie. Sebbene il titolo possegga tutte le caratteristiche classiche di un survival, come ad esempio la creazione di oggetti e la gestione dell'energia, della fame e del sonno, la sua struttura prevede anche che i giocatori si addentrino sempre più nelle profondità della città sotterranea generata proceduralmente, alla scoperta del motivo per cui tutte le entrate di Moria sono sigillate da una misteriosa maledizione. L'esplorazione è quindi la componente chiave dell'esperienza, mentre il farming è messo in secondo piano per tutta l'avventura, poiché le risorse necessarie a migliorare il proprio equipaggiamento non sono affatto difficili da accumulare. A dire il vero, l'avventura sembra quasi calibrata a partire da un preciso meccanismo di progressione volto a mettere costante pressione ai giocatori, che si ritrovano così in ogni momento ad affrontare delle minacce superiori alle loro possibilità. Moria è infatti infestata da orchi, goblin e ogni altro genere di mostruosità, e ciascun nemico è sempre sproporzionato in termini di pericolosità alle capacità del personaggio. Non si tratta quindi solo di accumulare la corretta quantità di ferro, acciaio e oro per forgiare quell'arma che renderà i nemici più gestibili, quanto di scovare quei giacimenti di risorse che sbloccano l'accesso ad armi e armature con cui avere la meglio su categorie di avversari sempre più forti. Un espediente questo che a conti fatti rende l'esplorazione sempre impegnativa e gratificante. Una buona fetta della navigazione all'interno della città dei nani è inoltre affidata a percorsi che i giocatori possono creare in assoluta libertà, sfruttando delle semplici piattaforme di legno utili per raggiungere un giacimento apparentemente fuori portata. Ma se da un lato l'assemblaggio del proprio percorso tra le sale di Moria risulta appagante, dall'altro si viene invece continuamente messi alla prova da alcune dinamiche survival studiate al su lo scopo di rendere l'esplorazione molto pericolosa. Già, perché Return to Moria è un survival davvero punitivo, e oltre a dover controllare la fame e la stanchezza del personaggio, il gioco ci affida la gestione di un'altra statistica legata alla malvagità che ancora risiede all'interno della montagna. Rimanere al buio troppo a lungo infatti non è mai una buona idea, con il nostro eroe che comincerà progressivamente a perdere lucidità prima di cadere nella più totale disperazione. Certo, le molteplici ricette disponibili offrono ottime soluzioni al problema, poiché non solo potremo cucinare ottimi pasti da portare con noi nell'esplorazione, ma anche gustose birre infusi naturali che si dimostreranno sempre un perfetto rimedio al male che si è insediato a Moria. Tuttavia, nel lavoro svolto da Free Range si insinua anche qualche crepa. L'esperienza è capace senza dubbio di impostare ottime atmosfere, ma è anche afflitta da una serie di difetti che incidono su quei campi che un survival non dovrebbe assolutamente sbagliare. Affrontare Goblin, Orki e altre creature è l'attività più comune nell'avventura, ma è un peccato farlo tramite un sistema di combattimento grossolano impreciso, regolato in più da un set di animazioni approssimative e da un'intelligenza artificiale insufficiente su tutta la linea. L'intero comparto è infatti realizzato con una superficialità disarmante, esattamente come tutto quello che riguarda l'housing, che sembra sia stato lasciato a metà privo com'è di spunti e soluzioni in grado di garantire un'esperienza soddisfacente mentre si costruisce un avamposto. Lo abbiamo detto, certo, l'avventura è squisitamente lineare, tuttavia è anche fondamentale stabilire un insediamento così da centralizzare l'accumulo di materiali e le stazioni per le creazioni di oggetti. Tornare all'avamposto poi è facilissimo grazie ai viaggi rapidi, ciononostante l'intero sistema di costruzione di una base appena abbozzato. Non c'è infatti arredamento, non ci sono decorazioni e non c'è nemmeno la possibilità di realizzare una vera e propria casa. Insomma, l'unica cosa che i giocatori possono fare è sviluppare una centa murari attorno al proprio campo, quindi non il massimo per un survival che arriva sul mercato dopo gli standard imposti da esperienze come Valheim. Eh sì, purtroppo neppure il comparto tecnico si dimostra all'altezza del prestigioso nome di cui la produzione si freggia. Se è vero infatti che le ambientazioni sono ben realizzate, modelli e animazioni di nemici e creature sono lontanissimi da quello che era lecito aspettarsi, e senza contare un fastidiosissimo bug legato al caricamento degli asset del mondo di gioco che produce una barriera invalicabile quando si prova a spostarsi tra un'area e l'altra. Lo studio è già corso ai ripari con una patch correttiva, eppure non sembra che la situazione sia migliorata troppo. Infine, anche il comparto sonoro svela tutta l'inesperienza del team. Alcune battute di doppiaggio si ripetono infatti senza motivo, i glitch sonori sono all'ordine del giorno e manca persino una colonna sonora degna di nota. The Lord of the Rings Return to Moria è quindi una splendida occasione mancata. Tuttavia sotto la superficie dei suoi difetti, il survival targato Free Range Games nasconde un'anima ben definita e ricamata in modo fantastico anche grazie alle atmosfere che i fan delle opere di Tolkien non potranno che apprezzare. Se siete quindi degli appassionati di survival e del Signore degli Anelli, allora vi consigliamo di mettervi nei panni di un nano e di vivere l'esperienza confezionata dallo studio californiano, consapevoli però che al momento il gioco è molto lontano dagli standard moderni proposti dal genere di riferimento. E voi cosa ne pensate? Vi aspettavate di più da Return to Moria? E credete che una licenza importante come quella del Signore degli Anelli tornerà prima o poi a risplendere in ambito videoludico? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi nessun contenuto relativo all'universo fantasy creato da Tolkien. Qui a fianco trovate ora alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!